Il dottor Mauro Perugini è responsabile regionale del volontariato di protezione civile, ci troviamo a Visso nella Casa del Parco per questo particolare meeting rivolto ai volontari non solo. Sì, ormai è la non edizione del meeting invernale del volontariato che possiamo considerarlo anche un momento di festa e come di consueto ad ogni meeting agganciamo un'attività formativa. Quest'anno l'attività formativa è rivolta ai volontari di protezione civile della provincia di Macerata per l'utilizzo delle radio sia in attività di emergenza che non di emergenza. Questo perché? Perché la Regione Marche da alcuni mesi ha autorizzato le organizzazioni di volontariato ad utilizzare le proprie radio, se in regola con le normative, nella rete regionale radio. Abbiamo iniziato a Macerata appoggiandoci appunto a questo meeting invernale, ringraziando anche il parco che ha messo a disposizione la struttura, il comune di Visso e il comune di Castel Sant'Angelo sul Nera. Proseguiremo poi con le altre province, quindi nel giro di pochi mesi, probabilmente entro la primavera, noi questa attività formativa la faremo in tutte le altre province e la ripeteremo ancora a Macerata perché qui a Macerata abbiamo avuto una grossa richiesta.